Sono soli e solo se ci imbocchiamo le maniche tutti insieme possiamo in qualche modo reagire e resistere. In questo presidio ovviamente noi ci aspettavamo che ci fossero centinaia e centinaia di lavoratori. Ci fa molto piacere che i compagni della Notav stanno sostenendo e sono venuti qua a portare la loro solidarietà e anche il compagno Andrea e quindi noi siamo grandi anche perché ovviamente noi abbiamo bisogno della solidarietà di tutti. L'ultima cosa e chiudo e faccio un invito ai compagni della FIOM. Questo presidio, questa lotta non è una lotta settaria, questa è una lotta a terra, onesta e quindi noi crediamo che loro in qualche modo ci devono sostenere, ma non sostenere noi, che tutti insieme ci dobbiamo sostenere perché questa è una lotta che riguarda tutti. Quindi l'invito ai compagni della FIOM è di non farsi in qualche modo imbrigliare dalle loro strutture.